La Lega ripropone di riformare completamente la RAI, in che modo? Noi siamo pronti, lo facciamo con un atto concreto, a mettere sul piatto la riforma della RAI che preveda innanzitutto un'informazione più pluralista, una RAI sganciata dai partiti, completamente indipendente, per avere un'informazione chiara, non che vada a secondare, come fa adesso nel nostro Paese, la volontà di chi in quel momento governa o di chi ha messo le mani sulla RAI, ma che dia veramente un servizio ai cittadini serio, concreto e moderno. Quale sia il modello, si può riferire a un modello forse più anglosassone, meno gente, più oculatezza nel gestire anche fisicamente la RAI e tutto a beneficio dei cittadini. La Lega ha detto in maniera molto chiara che è disponibile a collaborare con il Governo se il Governo vuole collaborare, noi vorremmo che il Parlamento sia protagonista in una maniera seria. Speriamo che il Primo Ministro Renzi non pensi di callare dall'alto l'ennesimo decreto legge o qualsiasi altra cosa, non andrebbe bene. Per cui ci attendiamo una risposta, noi siamo disponibili e abbiamo le idee molto in chiaro. Grazie. 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 Grazie.